ok dunque questa non è una quest principale questa è la quest principale dobbiamo andare a trovare Song che tra l'altro nella telefonata che ho ricevuto da lei è sembrata abbastanza in pessime condizioni vediamo un pochino che cosa che cosa le è successo bella mia, già non stava benissimo quando l'abbiamo lasciata mi sa che sta ancora peggio di come stava prima, quindi dg per lei moto, grazie mi è tipo sponato in faccia vabbè let's go no dice dall'altra parte andiamo a vedere che è successo a Song e vediamo se oggi è il giorno di chiusura di questo fantastico DLC, ragazzi, comunque davvero, questo DLC di cyberpunk spettacolo davvero spettacolo io non so da dove cominciare per definire la bellezza di questo gioco già prima ma adesso too much too much assolutamente too much che cosa è andando abbastanza veloce posso saltare da una parte all'altra arrivare dall'altro lato senza passare dallo scan ma poi l'altro è chiuso potrei anche farlo a mischiantere e basta non è tanto worth dai let's go la mia adorata Songbird la mia adorata Songbird Speriamo che non stia troppo male della mia lei mi voleva solo aiutare per quanto non mi cominciare Mr. Hans che vuoi? V se staremo a vedere non ora però anzi perché non c'ho più il il Marker dove andare per mi scusi no mi scusi no mi ha tolto il tracking di quella questa vabbè questa stiamo facendo il Mr. Hans lo facciamo poi non è il momento devo andare a vedere la mia adorata come sta weee in RD potremmo fare un fantastico fight day a cazzo non so non so se avete qualche idea fatemela sapere qualcosa da fare per il più grande sono tutto orecchi che pilota sono sono un pochino più vicino potevi stare e non so non so se è un pochino più vicino Ok Soundbird Dentro il fogone Ah stai bene insomma Mi dicono Sta bene insomma mi dicono Sta venendo ad ucciderci Già Monosillabo Ciao lama come stai T'ha a posto Tutto bene che si dice T'ha a posto Tutto bene Tutto bene sono preso dal Dall'organizzare un po' di cose Ho riassumato il canale youtube Che potete trovare Nel messaggio pinnato sulla chat E quindi Venerdì Faccio leve l'app Sto venendo di organizzare Qualche cosa in live Molta Bella questa Che finirà Molta 예요o E E E Colonna Un'unica e solo un'unica, è tutto ciò che stanno aspettando, e non è giusto una negozazione, in tutte le probabilità, mi servirà come la lab ratta, la loro AI dentro della neural matrici, E' un po', ha ragione anche lì, effetti siamo un po' nella merda. Uh, si va solo l'una, andiamo a far compagno a Lucy. Easy peasy. Non so perché non mi fido mai. Ciao Ruben! Ti piace quelle molte, eh? E' proprio fighissima, lo so. Che bello vedermi la, eh lo so, lo so, in questa mente. Oh dai, settimana scorsa è stato un casino, non ho voluto proprio, non è che non volevo. Ho avuto un sacco di casini da risolvere l'ottima scorsa, troppi. Oddio. Facciamo questo. Testimone tutto, ecco, infatti. È stato un disastro settimana scorsa. Però, dai, questa settimana ci sono. C'è anche il venerdì compleanno. Qualcosa devo organizzarla per forza. Oh, Dio. No, neanch'io voglio che muore. Sono... Mi dovuto affrontare vecchio. No. Deve l'app. Poverina, sono me. Meglio bene, sono me. Grazie la ruota. Potremmo? Certo. Tu tolto l'armi prossimo, vedi? Error, 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 error. E niente. Più experienced, infatti. Esattamente. Ok, let's go. Si guida. Andiamo. Stiamo pronto. Civilian Stable. La patologia sconosciuta. Neuro immagine abnormale. Prognosis pur. Neonosis inconclusive. Suspected metastasis. Era qualcosa di già. Wow. Insomma. Sta bene, mi dicono. Sta proprio una meraviglia. Povera, sono mi... Qualcosa mi dice che schiatterà alla fine, comunque. Con il mio sommo dispiacere qualcosa mi dice che schiatterà. Piove. Piove come se non ci fosse un domani. Come qua. No, qua non sta piovendo. Però sta minacciando pioggia, in realtà. Orbital Air. Welcome to you to Night City International and Translunar. The guy... The vehicle space background... Va bene. Speed limits. Sicuramente. Ehm... Defendente persone... Va bene. Cercheremo di fare del nostro meglio per non ammazzare l'intera stazione spaziale. Del nostro meglio. Dai, sono proprio di arrivare. Visitenai, Robby. Ok. Come a long way. I haven't quite reached this end yet. Già. Gira. Bravo. Era porto i brindisi, guarda. Alver. Ti a posto, Samy? No, certo. E niente. Vabbè, anche c'è una spade bellissima. Fuck me. That's something. Complagno. Esattamente. Ok. Taiko Terminal. Ok. Taiko Terminal. Unnotice. Va bene. Ok. Let's go. Partibile. Partibile. Partibilissimo. Uniamo. Ventamente. Non sono nessuno di importante. Salve. Grazie mille. Unnoticed. Please. All'eroporto i brindisi non sono così gentili, però. personal link e il panel. Ahà. Ok. Cosa intendi per... Unnoticed implants. Labroi. Specificamente. Un schedule dettagli era nel spazio port, termini e condizioni. Ti ha accettato quando ti comprasti i tuoi ticket. Fiii. Ho paura. Sì? Sì? No. What? Quindi non ho le mie armi E non ho neanche le mie spade Ok Così, lentamente 98, 99, 200 Ok Dov'è la camera? Eccola, salve Il pugnino nelle mani, non ce le ho più Ok, non c'è di che Cyberware inactive Oh mio dio Combat team pens have been temporarily activated Oh oh They will be let up on arrival in destination Oh oh Um So I'm completely Harmless Non corriamo Evitiamo di farci notare Da qui Allora era 9,3 0 Ah, se tutto so 0,6,0,4 0,6,0,4 Luggage numero 4,0,4 Not found Ok Ok Grazie Grazie Il sogno di rischio in una buona Good luck Ok, grazie Un posto discreto Un posto discreto Un posto discreto Un posto discreto Allora Andiamo qua dietro Più discreto di un cesso Salve Non si può chiudere Ecco qua Corpo coso Eccolo qui Let's go Guarda che sono bello Guarda, guarda Fantastico Ora sono un lavoratore Di questo Find a way to get To get into the terminal Ok 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 Questo Non sto per niente Spikes Blah 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 Vediamo Come possiamo entrare Nel taiko terminal Che c'è qua Di qua c'è la cosa per partire Molto bene No Non credo Non credo no What's with these mechs The mechs are fine If the auto dog lock Back 4 Oh Fuck Shut down triggering When the alarm goes up Right It should be Hand me the doors Away fucking needs better tech That and better techies These spots like this in a crowd Keeps panic Carnage virtually guaranteed Ciao Immaginate andare in aeroporto E ci sono questi cosi Vi sentireste tranquilli Onesti Vi sentireste tranquilli Con uno di questi all'aeroporto Io non tanto Sincero Sponsor account Crystal palace Your place among the stars Reserve your apartment This might be È un metal gear Sì praticamente Allora C'è un gozio Sto ragazzo possiamo fare Andare a vedere dall'altra Dove c'è qualcosa di utile E sì Praticamente un metal gear Beauty free Yeeey Possiamo comprare gli alcolici Camere Estruttori Possiamo comprare i gioielli Questi che vendono? Ah si beve qua Wow Ok allora E hurry up the lab Ma non ho capito bene Come posso fare Ma poi sono i processi di prima Lugage Ah di qua forse Salve Dove ripassare Grazie Ah forse Ci abbiamo fatto Spostati Via Ok Sto parte dell'aeroporto Mi sarebbe un attimino Ricontrollarla Eh E niente Va bene Il cane è sempre capace Di riuscire A rinquadratura Sì Mettimidone Bello mio Salve Salve signor collega Mia Salve signor collega Come è stato a posto? Ci vediamo domani Ok Ok Questa è l'area Questo potrebbe essere un problema No 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 I'm not here Easy pisi ho finito il mio turno di andare a casa ciao allora io devo andare lì, se riesco a andarci velocemente tipo così no? mi hanno beccato? no mi sono sprovvisto di qualunque cosa sono un po' troppi questi tizi però mi pare di aver trovato prima questo colpi di pipe mi prendo stand on a rooftop, let's go ok Sì, dove ancora? Salve, io ho finito sempre il mio turno e ho aperto la strada di casa, mi dispiace. Ok, allora qua abbiamo delle corse. Sì, non sai questo, certo? Non è utile questo. Il rinno è buon. In Mondai, il posto ha una vibraggia. Farrows. Vieni a me, ho un'idea! Wee! Ho lanciato bene, è proprio un bel... Una bella palombella. Sta avvenendo per una crisi adesso, proprio adesso? Ecco qua, lo sapevo. Sapevo io. Avevo il momento giusto. Tu sei qui? Qui! Ciao, V. Eh, V. Song. Sì? Concordo pienamente. Sì. V? V? Cosa c'è con te? Eh, same. Sì. 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 Ridami le mie cose. Allora, eh, qui avevamo la mia pistola Gigantor. Dove sta? Eccola, questa è la Gigantor. Poi avevamo lo Shotgun della stessa marca, eccolo. E poi avevamo lo Sniper che curva da solo, che però non ricordo quale cazzo era. Era, era, era... Eh, non era questo, non era questo, no, era questo. Ok, mi sento meglio adesso. Cyber War Active, let's go. Ok, let's go. Andiamo subito, dai. Resisti ancora un pochino, dai. Sì. Sì, effettivamente. Ehi, calmina però, eh. Qua stiamo lavorando anche per te, vorrei dire. Cioè, ma fa proprio rumore metallico questa tizia quando cammina, bella mia. Un po' veloce. Qua stessa. Vai, pianga. Telecamere. S***. SIGS. Un'NUS comms frequenza. Myers. Non ci troveranno mai You'll never get us What do you need? I've got control of the fan One of the blades I'll squeeze through Got a light ahead Security, hold up a sec Ok, move on Alert now, eyes and ears Shit Ok, facciamo che questo mi sembra un buon punto per salvare No, tanto pare no Vabbè, ci sarò 50 secondi Salve Reedy Eh, grazie We've confirmed V's presence here, at NCX FIA must have been on me since you went through security What's up, so me? Move, go They're gonna spot us Probably too weak to get around on her own Most likely she's waiting somewhere Concealed Most likely, just doesn't cut it No Does Orbital Air know the stakes? They triggered the alarm but failed to find V And our agents? Cover's been blown on a handful OA won't get a word out of them I guarantee you Those still undercover are looking for Songbird We'll talk about operational errors later Mi stavi simpatica Madame President, bro Ah, mi stavi proprio simpatica Adesso, bro, mi stai perdendo punti So I decided for you And brought support I have everything under control No, Sol You lost control way back It's time you acknowledge that Ah, Rosalind Myers Her true face Fuck the one on her billboards I don't think I'm scared of seeing you Ma? Avrei super paura a stare lì a spiare, perché non so, ho sempre l'impressione di far sentire i ragazzi osservati, si chiede un po' di reazione. Songbird ha fatto la sua scelta, ora ha bisogno di sapere cosa sono le conseguenze. Songbird ha fatto la sua scelta. 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 Mi prenderà fuori da giù. Vai, ghost. Il mining sta per succedere qualcosa di arrivo. Alla prossima. Alla prossima. Solo bisogna avviare il terminal di Tygo. WTF? Cosa di che stanno parando? Cosa di che stanno parando? WTF? Non ho capito a cos'è che stanno parando. Allora, noi dobbiamo andare da quella parte. Ho uscita l'altra gente. È impossibile uscire da qua senza che si vede dentro. Scusi! Quella altra tizia... Muore... Quanto è tolto in posizio? Ok, ok, ok Allora, sono quasi arrivati dove dobbiamo arrivare Non perderò tempo ad uccidervi tutti No, levati da là Quanto vorrei essere un metrame in questo momento Per il prossimo facciamo che prendiamo lo shotgun Così Così poco danno, cazzo Ok, torniamo con la pistola Ah, non è esploso, ok, ok, ok È funzionata la mia strategia È funzionata alla perfection Sono un po' tanti Mi sa che qua forse può esserci più utile Lo sniper Ok È decisamente più utile lo sniper Mori Ok Lo sbarramento che c'è lì Ah, ce n'è ancora un altro Mori Mori Mori, no? È presente Ok Ok Dove nemmeno da sola Mi ha fatto mancarlo Ok Ok, sono quasi Mi resti Mi resti Oh, salve No Sono mini dai Forza, veloce, veloce, veloce Ok, forse qua Come Ofi Ho Fiore Mi 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 ciao in lato aspetto no non passa no no non ci penso neanche a farmi uccidere tranquillo qui dobbiamo fare le armi dopo il quale è solo ah che di merda ok teniamo lo sniper quanta gente amico non è che sono comparto sparando tra di loro no come mi salto guarda è to ok 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 un po' che muori da qualche parte c'è un netrunner ma non lo sto riuscendo a vedere dove si riparte da dove si riparte adesso da qui oh gesù ah no questo è il coso va bene va bene ho pensato fin dietro posso per modo di dire è comunque un bel po' di strada da dove no but you on that shuttle so we need to do and that'll be that train right to the launch pad that's all just need to blast at the tyco termino first maier's assault team shit show's starting 10 more of a versus orbital air the fuckers pleading oh sono veramente da oh 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 non vuole creare quel pizzo un po' il mio inizio muori! ohhh e basta qui ce vanno ma muore su questa e mi mette ansia è già allora mi serve di nuovo lo sniper per questa parte boom nice ok così ci vediamo non sono più li siamo a montagna ok mettiamo con la testola facciamo il meh Vim Vim Un altro due lì Chi cazzo siete? Rom cicoglione Aiaia A facciati dai A facciati Sono davvero curioso Per capire così chi mi sta attaccando Ma che cazzo mi sta colpendo? Ok qua vogliamo Ma che cazzo mi sta colpendo? Oh! Guarda tu! Easy piece! Let's go! Ah no! Ma io posso salvare adesso? No eh! Salve! Torniamo le armi. Bang! Bang! Nice! Ok. Il cazzo di metterraneo è proprio una parte. No! Perché non siete ammigati? No! Perché non siete ammigati? Ok. 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 Sipuriamo un pochino Con il finish Gazzu siete Con il netrunner se lo prendo Madonna santa li strappo le gambe Eccolo è il pezzo di merda Vaffanculo Ponchi i coglioni Incredibile Dai forza sumi Ce l'abbiamo quasi fatta E' quasi fatta Vai Vai No No La vedo un po' zombificata la signorina Oh Sipuriamo 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 Vee Se l'abbiamo Se l'abbiamo Soprattutto 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 Non è chiaro Sempre peggio eh Songbird comunque Mamma mia Sta peggiorando la vista d'occhio C'è un po' Questa è spazzola Prendi un po' Possibili vedere la croma Ed è sicuro? La maggior parte dei tuoi Mi sono conosciute Puoi prendere i auto-diagnostics Percedere l'accesso a tua bio Ho potuto scopare Potremmo riuscola Può accettare i compensatori Ho spero che posso capire è vero era diverso in tutto questo più 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 ma il progetto è quello che riguarda, certo? non è più vicino quindi un'escalata in luna quanto riguarda i giorni? convo con un po' segreti di varietà del stato? di varietà del stato varietà del stato e di varietà in mio caso unifida bello non ti giudico, tranquillo come on sembra un po' meglio vuoi dire? ma ho fatto pure level up qualcosa di utile qui no eh? cazzo di niente cazzo di niente guarda 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 non siamo qui guarda 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 Cosa c'è questo? Non è aperto! Certo! Non lo sobra, non lo sobra! Ok Ascolti! Non lo sobra! Aiuto! Non lo sobra! Oddio! Oh, ziuolo! Aren't Einsched gas fogger? Sì, sono Sì 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 binary Sì 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 ecco qua way too quiet ecco qua e dovrebbe mai dire Oh, che male. Mi fa cagare, via. Sono leggermente incastrato. Ok, ok, ok. Ow. Male, aiuto. Sono stati, sono lenta dopo. Allora, mi cazzo arrivo qui là senza farmi suicidare. Un'idea ce l'ho. Un'idea ce l'ho. Stand e vista dentro e dentro. I'm, uh, fin. Ok. Come on. What's my comfort zone? Keep it clear of Meijer's minions. Sure. Let's do this. Good luck, Sonny. Concentrate your mind! Proprio 0-0. Pure il tuo camo. Se non è che io devi stare in giù. L'ho fatto bellissimo. Cover me! Who is it? Any minute now? Proprio solture! Everyone's up! Vai! Hai! Questa è l'interior della persona, bastardo? Mori, ad esempio, un cazzo di... Out! Tutura, tuto la polaccia, tuto la polaccia, tuto la polaccia... Ok... Nice! I need a medic! Get it out of the way! Fuckin' it! Song! Shit! You were right! I had a little luck. Can't last long. What the fuck do you know? I have to drop past the wall. No other way. Nothing. Neurobridge, let's go! Look at your backup. Always can use a... Proxy. Ready for this? Uh! Fire it up. Fire it up! Fire for the window! Fire for the window! Fire for the door! Forza, forza ce la puo fare. Dai che ce la fai? Stanno entrando Please help Please help Sbang Vai sull'elicottero pure Sull'elicottero fa boom Sbang Go boom Oh fuck Questo è il DLC degli eri che ti cadono in faccia Ok Ah che bordello Let's go Oh no Wow ucciso per poteri Che figata Ho la forza Venga Venga Non c'è l'ecciso per poteri Non c'è l'ecciso per poteri Non c'è l'ecciso per poteri Allora Mi piacciono anche a me i treni, in effetti. Sto prendendo paura, eh? Questa stessa stessa treno. Sto morto perché ciò che ho fatto. Solo un buon sogno, Zong. Ho avuto le mie ordine. Ho eseguitato le ordine da Myers. Oh, mostro! Salve, come stai? T'è a posto? Siamo penso alla fine di Cyberpunk, eh? Momento culo, abbiamo appena passato una fight pazzesca. Tutto bene? Bene, bene, bene. Sono contento. Ma a fine lei posso parlarti? Sì, certo, figurati. Nessun problema, tanto appena finisco passo di là e entra. Quando mi vedi entra, non c'è problema. Piccolo spoiler di chi mi parli. Così. Mmh, sì. Oh no. Quindi mi sai per tradire? Putta puttana. Quindi mi sai per tradire? Putta puttana. Quindi mi sai per tradire? Putta puttana. Sì. 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 Di nonessобili. In которые non ho ha detto, l'amata, hai dovuto spiegare. Tutto il mondo ha fatto, non ho ho visto. Sì. No, non ho ho visto capire. Sì. 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 Eh, mo' sono molto, molto combattuto Oh, va bene, va bene Ne parliamo dopo, allora Ne parliamo dopo, c'è problema E mo' io con questa che ca... Non mi preoccupare No, 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 assolutamente Sono una persona curiosa Vabbè, abbiamo fatto finora L'ha appoggiato lei Continuiamo Mi ha detto la verità Mi ha aiutato comunque Song? Che ti senti? Mi ha impazzito Bird took everyone for a ride Myers, Hanson, Reed You Mi sembrava troppo bello Che mi direi ci mettessero un modo per Infine all'alternativo Tra quello della storia Mi sembrava molto, molto stanco Un filo She stuck it out to the very end That commands respect Fuck all that Thing is You and me are back at square one Still have that problem Find some way to save ourselves Could always call Reed on the hollow I think he'd kill me Probabilmente Il più casino abbiamo combinato Che cosa è dico, V Ok, let's go Dici Si va sulla luna Let's go to the moon Go to the mall Se la buttassi di qua sotto Per esempio Oh no, che palle Stop there One more step And you're dead Look Look But near down Come dobbiamo far fuori pure Reed Reed So So What do you want to do? Reed She's fucking dying I see two near corpses with a death wedge You're for alone if she kicks it Right Because you and Myers had no hand in this shit It's all that awaits her on the moon Do you want to save her? Leave it to me Back on the roof Myers' order was killed You didn't protest You heard it Si Every last word The situation's changed Ah si, in que modo You gave Songbird to me I can still help her That biz seven years ago Song followed Myers' order Then never forgave herself for Maybe the same for you Remorse to the end of your days But this ain't about Song anymore, V No, no No, this is about her not sparking another war I'm taking Songbird to Washington She'll answer for treason She has to He's not having said I can't see her I can't see her Yeah, we've got to You're right You're right Songbird's curbs Don't very And everyone To get what she wants And then to me Death We're just She promised And she didn't deliver Potremmo fare Il nostro controgioco Questa cosa È estremamente interessante Potremmo mollare le song a lei E prenderci la cura per noi Se effettivamente c'è Queste sono le scelte difficili Che non so mai quale fare Maledizione Blade Blade, sì, Blade Non so che fare Non so davvero che fare Posso scegliere di stare Con songmi fino alla fine Rimanere senza cura Nell'eiculata O posso dare songmi a lui E farmi dare la cura Lui dice Cazzo Cazzo Sono molto indeciso Davvero tanto indeciso Non so davvero che stracazzo fare Non so davvero che stracazzo fare Vabbè Vabbè Non so davvero che 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 Quindi niente cura per me Quindi niente cura per me? Seriously? I mean, seriously? Non so davvero che Sono molto molto arrabbiato Molto 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 arrabbiato Non so davvero che Non so davvero che Non so davvero che Allora, andiamo a cercare il nostro appartamento Ci appartamento Ci appartamento Ci appartamento Ci appartamento Facciamo passare del tempo Ci ricontatterà, si spera? Allora, andiamo a cercare il nostro appartamento Allora, andiamo a cercare il nostro appartamento Acuna, andiamo a cercare il nostro appartamento Grazie, andiamo a cercare il nostro appartamento Allora, andiamo a cercare il nostro appartamento Allora, andiamo a cercare il nostro appartamento Allora, andiamo a cercare il nostro appartamento Continua ad essere straglicciato Cosa c'è avrà da dirci? Vediamo Ok E queste? Ok Va bene Bel corigino Questo sicuramente l'ha fatto Eh... Judy Sicuro al 100% Ok Andiamo a incontrare quel coglione Ah, madonna, ragazzo, stiamo Yes Ho visto Il corigino È dolce Che dolcino Una benzina Ci stiamo incontrando Beh, wow New vehicles Okay Va bene Vehicles Armored with divi Machine gun E missili Wow Li voglio tutti Ok Ok Nica Time Un minuto è per te Per trovare le stracche È tutto In a hurry To get out of Dodge Should have warned me We might have just missed each other Maybe I was hoping for that I'm needed in DC Or so I'm told Long ass way to drive, June Well, trains just rub me wrong Besides which I need time to think things through Lots of things, lots of time Songbird had her surgery yet Gonna see her Songbird's in good hands Has a lot of rehab to look forward to Be a while before she's Back being herself Then what? Congressional hearings? Che culo Che culo Guarda Ho distrutto la cosa là dietro Vabbè Show me Up there in Space Force One She raised you on the hollow Not me Why? Hmm Song Song didn't trust you Knew you'd prove Myers' Loyal hound in the end Was ordered to Hunter But I helped her instead Want proof of loyalty No better proof than that Sì Non lo devi dire a me però Can only tell you what I think is right Don't have any cut and dry answers for you How about asking her yourself? You'll reach DC eventually She's already there Opportunity is not likely to be there E niente Know what your problem is You find it damn hard to just let go Open to some advice Stop torturing yourself with shit you can't affect Let alone control Hmm Time for me to fly Quella macchina comunque An honest thing much appreciated He deserved it so Quindi la mia cura Cosa mi dice che non l'avremo la nostra cura Away contact I'll ring you when the surgeon's are ready Hmm In sa per pack 2 probabilmente Speriamo di no Non prima di averciato la nostra roba I had 7 years to do that and didn't He's got a chance to turn his life around now Chum lost everything Literally Just hasn't realized it Yet His president proved herself a war criminal His friend flipped him a fucking club-sized bird His ideals Bottom of a cesspit Choke it on shit He'll hang himself Sempre molto ottimista Johnny eh Molto molto ottimista Ok Ma dobbiamo nuovamente aspettare Un se Che rottura di palle Torniamo al nostro appartamento A dormire un altro giorno D'altro noi siamo stanchi Da tutto quello che è successo finora Ok Va bene Queste sono tutte Cose Che non ci interessano In questo momento Torniamo alla nostra barra Tavendo Da vero Ragazzo è qua Non ci interessano No ci interessano Non ci interessano Non ci interessano Ma sta Non ci interessano Sempre là Dormiamo un'altra giornata Forza Sempre con questo bellissimo glitch sul braccio Spero si tolga molto presto Davvero fastidioso Vai Buonanotte Buonanotte principessa Ecco qua Reed Sentiamo Oh yeah Ok Sì Siamo pronti Un FIA AV può prenderti Stato Ho solo bisogno di un punto di incontro Preferably escludo Ok Il posto chiamato Misti è esoterica Ruffo del bambino Ok Stiamo stando Ok Ok let's go Vediamo un po' che succede Che ne sarà di noi Ok Ok vediamo Vediamo se salutiamo Johnny così In questo modo relativamente Pacifico Diciamo Oppure se ci ammazzo Secondo me ci puttano In una pattumiera Tutti si montati Addio Questa è la mia Mi trecentesimi Li metto su questo tipo di scenario Posso andare da qui Apri Ti sedano Ah Oh beh Bello Era un Muro illusorio Dark Souls Improvvisamente Così Così A cazzo Magari mi si sglicciava il braccio Ma Fa di no Ok Dai Johnny Questa è Oh no. Quindi effettivamente abbiamo un finale alternativo eventualmente. Interessante. Molto interessante. Quindi tecnicamente abbiamo un finale alternativo. Ha. Ha. Allora, devo cominciare. Non posso salvare. Allora. Vabbè, ci abbiamo in salvataggio teoricamente prima del casino. Quindi possiamo anche trovare le altre scelte eventualmente. Hmm. Io voglio vedere come finisce. Perché se non faccio questo finale, ovviamente, devo fare uno di quelli del gioco base, no? Quindi io voglio vedere il finale di questo DLC e quindi farò così. Allora. 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 Ok Poi Victor Vediamo in che modo E se questa cosa Cambia qualcosa col finale poi dopo Vediamo in che modo Ok River Vediamo come finisce questo DLC Vediamo come finisce questo DLC Sempre con quel glitch sul braccio Perché ormai ci sono affezionati Arriva Johnny Mancherai Salve Non fare così Non fare l'arrabbiata Mi dispiace Non lo so eh Non mi sto fidando molto Non lo so eh Secondo me ora mi smantellano davvero Lo sano Pleasure I'll be among those operating on you Let's start with a quick nervous system scan Ok Do you mind giving me your personal link? Allora rimettiamo subito Manu Non c'è problema Allora rimettiamo subito Ehm 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 Com'è 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 Tipo Per il suo Poi Di risposta Sì Sicuro Continua ad essere tanto convinto guarda la città guarda la città una buona città la città la città più rilevante dei città di capitalismo dei città di città si è successo una volta fa bene per ricordare se volete tornare in una volta non mi senti che ho perduto una scusa potrebbe essere perché? perché ho finalmente ottenuto quello che ho pensato per la città di città per la città la città vorrei vedere in quelle condizioni ovviamente lo sapeva male posso sentirsi orgoglioso di quello che hai diventato lascia andare non serve questo abuso la gente non riuscita cosa devono essere perché? Johnny? l'ultima volta avremmo parlare quindi farei la tua scusa per farmi sentire come città? perché è la mia ultima scusa di fare una differenza se non nel mondo se non nel mondo allora in te voglio vivere Johnny ho stato chiaro dappi erano opzioni potremmo 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 ma non 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 potremmo 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 fin l'unico potremmo potremmo un gruppo potremmo 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 che ti senti a ascoltare? Il piccolo John potrebbe essere un po' solito in un'altra vita chiedendo perché non siamo in questo Siamo troppo alike Stubborni a una scuola Ironwilled Stubborni Stubborni a nostri principali Voi E' un'altro che mi tra l'altro Stiamo parla Stiamo parlando a te le Chiede a te le Buon ascoltare Non ci diciamo cosa ci abbiamo avuto Se ci stavamo No potremmo Stare un pochegno Lecce 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 Non è vero che il stress potrebbe affrontare. Credo che questo è tutto, figlio? Credo che... Credo che possiamo trovare in nostro cuore per perdere l'altro? Si... Posso? E tu? Credo che posso, anche. Almeno. Non sono proprio lasciati nel peggior modo possibile. Ehi. Wake up! Fee? Sei qui? Non proprio. Quindi forse non mi hanno scomposto e non l'altro. Forse sì. Continuo a non sentirmi molto sicuro ancora. No. No. Grazie. Credo che devo restare. Cuidatevi, Bea. C'è nulla che posso fare. E mi chiedo nulla. Alla cosa che devi fare è chiedere. Tu non eri dimenticato, Bea. Queste sono ricordi. Voici? Non è che tu non puoi credere adesso. Per adesso? Voglio un attimo interrompere la musica. Per questa parte. Le occhi sono aperti. Credo che ora mi vede. Pree, potresti senti? Mi sento? Penso che... posso sentire. E... posso parlare. Bene. C'è tempo. Ho detto... che hai un nuovo lavoro. Che c'è dietro la schiena, signor Reed? Non è una pistola, vero? Chi ha detto questo? Quando? Oh no. In l'AV... non sei lì. Certo, lì. Non c'era nessun motivo per me essere lì. Ora? Sì. Ho pensato che ti chiedi. mettendo in un'apparenza personale. Cosa notizia... deve essere. Mi chiedi. La scelta era una scelta. Certo? Non è così semplice. Il doc ti salvato? Sei vivo? Non c'è nessuno. No, in mezzo a tuagli ci sono. Non c'è nessuno. Certo, c'è nessuno. Nerva di tutto. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Certo. Non c'è nessuno. Ma... Sono diventato un Engram pure io, sicuro. Oh no. Non c'è nessuno. Certo. Il cervello può gestire un'attivazione personale e un'attività di biologico. Ma ogni usaggio di un'attività di combattare... Beh, può salire. Sancho, v. Ma la vita che avevo mai avuto, è che è morto. oh guarda, non sono più mercenario c'è una cosa altro si tu stessi per due anni è 2079 tu stai a me credi vorrei che potessi dire che sia tutto bene 79 99, stai a me for a ride is this some sick joke please say it is or just admit I don't know that you don't know aren't sure, whatever I wish I could help you, V but I can't same shit always peeps wanting to help me never being able to never being able to be a you you are I need I need I need some air dopo due anni vorrei vedere been laid up for two years, V ah caffettino damaged my nervous system can hardly believe it why didn't they use nanobots neural matrix apparently you reduced your cells regenerative capacity we tried everything really really what what about my chrome your implants have been deactivated they need to do it the survival depended on it mom ha 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 I don't know where in the stand and see you when can I go back today if that's your wish but you should ask yourself cream where's my stuff Questo è stato abbastanza chiaro già su questa cosa Ma pure No pity here V, it's an appreciative gesture from the NUSA Fuck that kind of gratitude This isn't my life Reed But it could be, given your old one is long gone Don't know, someday maybe, need to think But now, going home to NC, definitely Didn't escape death just to waste the way here Is that Up to you Up to me Is that you know where you're heading? Call the nurse And if you change your mind You know where to find me Reed This story We We do the right thing Could we have done better? I don't know V And I won't try answering Just plain afraid Probably Probably Okay So yeah 5 messages Wow We can do that So yeah What's next? We're all together How do you have to add some music? I'm so sorry I'm so sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry You're sorry I'm sorry I'm sorry Minchia, 55 chiamate Wow Sono un po' incazzati, eh Ok Vaffanculo Chiamiamo Judy, ovviamente Ma, come è cambiata? No No fucking way Hey, Jude V Were you bitten to? In US clinic At surgery That's a long story Must have been a long operation too Gruesome Bloody Spend most of that time in a coma Unplanned, obviously Wow, V Thought I'd never see you again Dealing And with some drawbacks I I'll never fully recover I'm alive Sure, but Got no idea what comes next Shit Are you serious? What about it? Really sorry, V Hope you figure it out Get yourself set up again Of course I'll make it Got you on my side I was afraid you'd say something like that What? Listen A lot has changed I'm in Pittsburgh Oh, niente Ci siamo persi Judy Scusate Scusate Adesso Siamo dentro A occupare Bentornato Si è sposata Pezzo di merda Pezzo di merda Di Judy Emma, you don't drive Sure Maybe But You were dying And you up And disappeared What was I supposed to do? But I'm good Now, V Please Don't take that away Don't have much of a choice Do I? Effetti Goodbye, V And I'm Sorry E niente Quindi Dobbiamo cambiare Tizio da qui andare Second best C'è River No, Victor Hmm Panam Chamo River No, damn way River, it's me Me who Incazzati, eh? River I was in A coma He just woke me up Oh Shit, V Sorry Here I am Being a fucking asshole To you Nah It's alright Be pissed if I were you too V It's Not just about you Problems with me too What's going on? I needed money for Randy's rehab Oh no So I did deal with trauma E niente Anche questa nella merda Che non ho le imparate Che bello Mi stanno dando Tutti quanti Cazzo Dopo tutto quello che abbiamo fatto Per aiutarli E allora Victor Goodbye, River Bye, V Thanks for being a good presence In my life for a time No, Victor I'm only gonna say this once I'm in no mood for pranks So if you don't Hey there, Vic V? Is it really you? The one and only Unbelievable But how are you? Why? So this Netrunner I met Got me involved in this FIA Op They promise surgery Cure using the runner's tech In exchange And it worked But not without complications A two year coma For one God damn it That's a chunk of life there Yup I mean They saved me New lease on life But Chrome's a no go for me Now Even simple muscle boosters Is that what they told you? Quacks I bet They overlook something I just know it Ok I mean I don't know it I don't know it I'll be on my way to see you soon Usual spot Yeah In a manner of speaking I'll see you, V You know the address Ok For the defense No, vaffanculo Anzi, voglio sentire che dice Panam In realtà You have reached Panam Palmer Ma? We're sorry The subscriber is currently outside the surface area Please leave a message or call again later Panam Hey Been a while since we saw each other It was a lot longer than I thought or wanted Guess you're Away Somewhere Hope it's Temporary A waypoint Not Outright Nomadic flight So Breast tax I Had surgery Docs just Brought me out of a coma Gonna live New lease and all But Not on the Greatest Terms Speravo di essere insultato da Panam Sicuramente Invece Parliamo con la segreteria di Panam Cazzo dobbiamo fare If I could see you You Find a moment Bring me back Yeah See you Soon Ok How can I help you? Night City Can I get a flight there? Of course An AV Is ready and waiting A posto I'll come get you now Salve Max Back on your feet It's nice to see that finally Back in Night City Piove di nuovo Che palle It's nice to see that V Did you get that? My question I asked if you find the liquor I procured for Mr. Vector suitable Hmm Hmm Yep Yep Perfect Exactly the one I had in mind I could love it Sorry Zoned out for a sec It's good to have you back in NCV 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 It's good to have you back in NCV I see the valamine I wondered if we did Oh I'll put any journeys together Though I can't help noticing you seem so Absolutely Might I ask how you feel? Hmm Hmm Like an outcast Feels like just yesterday I was part and parcel of this town Now I'm a god damn tourist In fact If it makes you feel any better I don't believe Night City has changed all that much Yes, but I'll see Man Been a while since I was last here What else has changed? The talk of the town is Arasarka pulling the Vulcan's operations out of Night City A legend you might wish to hear the latest news I shall turn the radio And now this week's question not question Yoronobu or Asaka What happened? Joining us today Masao Adams author of Arasaka's biography Urrrr 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 funding Urrrr Urrrrr Urrrr 3 altri si riuscano uh... tu parli con me? no, con me, Del non importa non c'è un fast travel al... no? un skip the thing? non c'è un skip the thing va bene ci guidiamo la strada il viaggio ma che bravo che sono lo so, lo so Nathan sono un sì pericol sì sì una parola di consiglio tutti lappiamo l'ultimo dell'ultimo l'ultimo che saggezza questa è da posto Nathan? che si dice? che si dice? no, è niente come no che succede? ci sono ancora a correre, che palle eh, ragazzi guarda come on do we gotta... non sei da qui non sei da qui invece e tu sei? sì sì grazie qui non è niente a rispondere scema di merda se non sta ancora voglio giocare non si cosa fare e... gioca allora, no? se vuoi giocare ma... Victor ha fatto soldi? ha fatto proprio un sacco di soldi? qui per vedere Victor ma se vado hai un'appointment? sì un'appointment tanto io trappo costa ok vedo un'appointment qui scegliate il prossimo paciente dovrà arrivare abbiamo fatto soldi, Victor non è in due anni? no, lo accetto no e allora poi per te non mi va capisco vedete se ci sono io vinci, no? oh Victor Vic è molto bello è bello è bello che cosa è bello è bello che è bello è vero è vero questo è il punto di vista del tuo? stai facendo una roba di questo riusciti dal morto ho pensato che non saremmo mai vederti vieni mi fa riusci cosa succederebbe con questo? comunque ha fatto un po' qualcosa hanno questa regola no drinking anywhere in the clinic I could get reprimanded ooh mamma mia demor de merrier e quindi due veterinari, questo è vero questo è molto vero con il titolo medio Malone vs Conno ricorda come se fosse ieri damn sembra come un'altra vita Zappa grazie mille per il ride benvenuti ragazzi benvenuti siamo alla fine 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 del DLC di Cyberpunk salve salve siamo proprio in fine sono le ultime scene del DLC siete arrivati proprio nel momento giusto che state facendo Zappa? Non sapevo che eri in live ok che stavate facendo? che stavate facendo? che stavate facendo? dici, dici, dici that's the attitude so tell me what's it like to be back among the living proprio, 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 ok what? eeeh emigrenze fate una retta in mezzo di là ok, ok, ok com'è andata? stai riuscendo a giocarlo senza problemi adesso, con G tu è tutto che ho restato io so dove sei arrivato se hai arrivato se hai arrivato la mia age tu puoi trovare che tu non hai nulla in comune con quelli che hai considerato vicino e carico e carico tu è il caso tu è il caso E.G. è esattamente l'unico cambiamento non vuole parciutto ok, meno male che stai cercando di dire esattamente? meno male eeeh questa cosa da Zetatec come ti finisci a trovare in loro web? c'era pressione alcuni spazi anche il cambiamento sembra sensibile perché? hai deciso di essere inutile? mi dispiace arriva un giorno ho capito che i miei perdoni potrebbero essere più se mettere il mio piede senti chiedi a Misty cosa pensi prima di aver signato ovviamente ho fatto quando dicevi? beh ha detto molte cose è un tipo di sensibile cambiamenti che succedono all'interno stava sentendo bene qui non mi piace mi piace mi piace mi piace spero che cose funzionino per lei spero che funzionino per noi noi è divertente ero terrorizzata che morire per così tanto non vedo cosa è divertente tanto da poco lo stacco pure io non tarderò molto vorrei vorrei vedere come finisce questo DLC che manca pochissimo penso come Johnny mi senti rispondendo rispondendo dopo 50 anni dopo 50 anni quando sei vecchio si è vecchio inizialmente 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 con le cose c'è una seconda parte del DLC può non sapere se c'è un'altra parte ancora bene anche se vediamo guardiamo il tuo motocortex ah peccato mi sarebbe piaciuto mmm e forse quindi non possiamo error low molto bene mmm mmm nemmeno io il girp bellissimo il girp bello bello niente 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 effettivamente rimaniamo senza Chrome nella merda niente effettivamente rimaniamo senza Google esatto ecco guardami ho dovuto adattare ancora facendo quello che mi piace ma io non posso solo due anni magari non lo vedete il tempo ha passato diversamente per me quindi io lo vedo sei pieno inizialmente sembra di essere tuo precedente credo così Vector veniva ho avuto problemi necessario è è ah sei lontano lontano non posso Tyler inizialmente 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 questo è il mio amico no affiliazione alla firma arrivi prima per me è importante per me che finale è triste porca miseria è proprio pesante mamma mia un finale un finale veramente triste 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 pesante nonostante ha ottenuto quello che voleva proprio porca pesantezza pesantezza adesso qualcuno mi prende per rapirmi e ammazza cosa già io non posso dipendere ecco appunto ecco qua ecco qua Chill, man. Easy. Come on, hand over your scratch. Let's go. Not a good time, Chumba. Like I give a shit. Give me money. Knew a few peeps here. They'd see this as a fucking problem. Some boss dog gonna scare me? F***ed up. Padre instills a fear of God and man. Ha 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 ha! Old road cooped on Lost Heywood. I don't think so. Booyah! Oh! Hold ya! Fee? Chi è? Misty. Ma anche te, i capelli... Sei cambiata pure tu parecchio. Ci danno tutti molto bene sto gioco così. Porca troia. Che bello che hai delle scale. Una mica la semiglia. Andrushed by two lame ass thugs. But why didn't you defend yourself? Eh. Couldn't. I Long story Oh Is that the Relics doing? I know I should be worried But honestly I'm just so glad to see you Jeez You're welcome So damn nice I actually feel better already It must be hard for you I know But hardships pass too As all things Not quite that simple Misty Everything's changed Fucking everything You saw what happened Can't even stand up to a couple of random dipsos Where do I go from here? You'll learn to live like us regular folk Avoid dark alleys Run when you hear gunfire Not much more to it Hey, you're bread and butter Welcome to the world of the faces in the crowd, Vee Che bello My ride will be here soon But I still got a minute or two to talk I've really missed you, you know Man Of all people Never thought I'd see you in the Night City Lei cambia dopo un botto fisicamente comunque rispetto a Com'era I capelli ricci I vestidini di quel tipo Sembra quasi lei un Merck You know what made me decide to leave Ah, Vic signing on to work for Zeta Tech No, not that It was a blow, that's sure We had a huge fight about it My favorite store burned down one day Went there to buy some white sage and saw a charred mess instead Da bel motivo I'm just going to the negozio preferito Just a minute Just a minute Jackie was gone You'd up and ghosted I decided to close the esoterica on the spot I couldn't help other people find balance if I'd lost it myself Sorry, Misty Wish I could help you I do You have helped By staying alive You know what, Misty? Thanks Likewise, V Could use a smoke, too Here I say Never imagined you with a cigarette in hand, Misty Takes the edge off Just started needing that Misty Can you just tell me what to do? Sure Okay, Laurie Shouldn't have to do I said something smart to say Hmm I can tell you how I bounced out of the last dark pit I was in Can you? Mm-hmm Turned out that an old friend of mine is still alive Huh, Fixer Bye, V Fixer, you gosh No, I Think you're right No point in giving up Maybe Don't know, I'll be a Fixer A change in your outlook's what you need first Won't make it otherwise Faces in the crowd Their world, V Remember that A face in the crowd So Somewhere to start anew? Gonna go looking? Gonna stay in NC Do what I do best Start over No idea what's gonna happen But I refuse To be beat You really are Unbreakable, V Alright, I'll be here soon Lock me to it Minchia Poveraccia Inoltre, questa è la prima volta che vediamo il personaggio dall'esterno Carina quella cosa Pure i capelli Non so, tutto Bella mia Guarda So Till we meet again, I guess Hope so Oh, V Do you still have that pendant I gave you? I Uh Must have misplaced Don't go looking for it Doesn't matter anymore I 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 Faces in the crowd I 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 That I I I I I tu che vai a scuola e questo è tutto Sì C'era un po' di parlare di vostre esploi in l'esplosione. C'è anche un po' di persone che ti hanno fatto un po' di concozione sul menù. Magari che ci rimbiamo sicuramente in loro condivisioni. Magari che sia meglio. Non mi piacere, le porto sempre è aperto. Ti saranno sempre benvenuti a mio club. Ma la tua legenda... Beh, potrebbe essere un po' di più con ogni visita. Non mi sembrava, non mi sembrava che non l'abbiamo mai segnale, sai? Mi conosco che sei in la città di Night City, e in buona salute, non c'è più biochip in il tuo cuore. Grazie, Vee. Non è vero, non è vero. Non potevamo, erano forti. Anako-sama è morto. Sono chiamato il suo morto. L'ho scenduto per due anni. La mia vita è ora un trash heap, dove ho trovato te. Voglio sapere questo. Tu sei una medicina molto forte, Vee. Vee! Oh, i'll keep this short, huh? Listen, it's nice you tried to reach out to Pan Am. It's good to know that you're whole. You're all right. ma... no... non ti chiedi di avercivalo la tua chiamata e poi non ti chiedi di nuovo se potessi quando hai scoperto ha fatto un po' percibire non ti chiede di attaccare ma quando ti chiede la scuola viene davvero facilmente e... non ti chiedi ok i'm counting on your understanding shouldn't do that to yourself to her so just don't call i look back at times and what happened think about you songbird we did right that i know why do i keep asking myself i could have done things differently you saw what she's capable of i had to stop her and maybe maybe punish myself is that it? it fucking hurts but it should hurt shouldn't it? okay what else? we finished no i want to a Vy it... didn't quite work out in... our last talk, huh? Un filo. Do you think you'd be up for that? Penso che non è più che una della. Molto bene. Ok. Ah, ecco, torniamo. Perfetto. 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 Va bene. E questo era Cyberpunk 2077, Phantom of the Dead.